Il 16 luglio giovedì, buongiorno e ben trovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Daniele Ricciuto. Gli ultimi dati sullo spopolamento sono allarmanti. In Molise è in atto una tragedia sociale e la prima colpa è della politica. Lo dice l'ex presidente della regione Michele Iorio, secondo il quale, mentre interi paesi spariscono, il presidente Toma gioca a dama per avere una maggioranza. Lo ha intervistato per noi Enzo Luongo. Presidente Iorio, sono usciti da poche ore i nuovi dati dell'Istat sull'andamento demografico. Il Molise ha il dato peggiore d'Italia, però insomma sono dati che già conoscevamo perché la tendenza è consolidata ormai da anni. Non si fa niente però per invertire questa tendenza. Cosa andava fatto? Cosa si può ancora fare? C'è un dato che è allarmante ed è preoccupante per il Molise. Il fatto di essere al primo posto in Italia tra le regioni che perdono abitanti, essendo la regione più piccola, è una sorta di inversione di tendenza rispetto al resto del paese che è anche preoccupante, perché per noi diventa drammatica la situazione. Perdere 3.500 abitanti nel giro di un anno era la cifra che si perdeva in dieci anni qualche tempo fa. E quindi nel Molise sta avvenendo una sorta di tragedia sociale, di spopolamento incredibile che va studiato, analizzato, capito e non servono soluzioni miracolistiche o spot di ogni genere. Credo che serva un'analisi seria del perché e la prima colpa è sicuramente della politica. Io credo che bisogna che la politica riacquisti il suo valore, il suo significato, che individui un progetto di risposta a questo fenomeno e che faccia qualcosa. Il Molise è fuori dal quadro nazionale. Oggi il governo nazionale sta discutendo i fondi europei del prossimo anno o dei prossimi anni e noi siamo assenti da tutti. Non c'è una infrastruttura, non c'è una soluzione che possa definirsi una soluzione per il Molise. Avevamo un'autostrada che era al tredicesimo posto in Italia tra le grandi opere, oggi è scomparsa e anche quella a quattro corsie, che è comunque una soluzione accettabile, non è nei piani del governo. Non so cosa chiede la giunta regionale per conto del Molise al governo nazionale, ma le assicuro che Molise non c'è, si spopola e credo che sia una situazione inaccettabile. I cittadini però intanto non capiscono perché il dibattito politico molto spesso di fronte a problemi di questo tipo si occupa più di poltrone. Siamo al quinto rimbasto di giunta in due anni e mezzo che è una sorta di balletto tra le stesse persone. Non è cambiato nulla, il Presidente annugia ogni tanto un'analisi, non so basato su che cosa, sulla valutazione della politica della sua giunta. Qualcuno cambia mezza sedia, qualcuno si sposta di lato. Mi sembra un Presidente occupato a giocare con la dama, con le pedine che sono a sua disposizione, che il suo problema è avere 11 voti per tirare a campare. Io penso che non sia questo che si può risollevare il Molise, penso che ci voglia qualcosa di diverso, ma fortemente diverso. La regione lavora alla ZES, la zona economica speciale adriatica, un mezzo per attrarre investimenti, attivare ricchezze e lavoro. Lo ha ribadito più volte il Governatore Toma, che ha partecipato ad un seminario in cui ha sottolineato fondamentale, è la semplificazione. Intanto lo stesso Toma si è attivato per velocizzare l'iter, per rendere concreto il tutto quanto prima. Il servizio è di Tonino Danese. Zone economiche speciali, un mezzo per attrarre investimenti, ridurre le burocrazie, accompagnare gli insediamenti, attivare ricchezze e lavoro, concetto più volte espresso dal Governatore Toma, che reputa la ZES importante per il Molise e la sua economia. Fondamentale la semplificazione, ha sottolineato, intervenendo al seminario web, le ZES per nuove opportunità di investimenti, organizzato dalla Camera di Commercio Ital-Africa Centrale. Secondo Toma, la svolta reale può venire dall'attrazione di imprese estere, opzione sulla quale la Regione intende creare un focus specifico. Ma questo, ha detto il Governatore nel suo intervento, deve passare necessariamente attraverso il presupposto della semplificazione. È un obiettivo su cui dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi, in assenza del quale non si raggiungeranno risultati significativi. Toma ha ricevuto l'incarico dal Ministero della Coesione di coordinare tutte le regioni italiane interessate dalle zone economiche speciali, per migliorare le capacità attrattive in termini di significativa semplificazione per ogni tipologia di permessi e autorizzazioni necessarie. Il Presidente Molisano ha evidenziato il lavoro svolto nei mesi scorsi proprio sulla semplificazione normativa sintetizzato in un pacchetto di proposte trasmesse al Ministero. La ZES adriatica interessa Molise e Puglia e parlando in proposito Donato Toma ha ricordato come, dopo un periodo di tempo neppure tanto lungo, le due regioni siano riuscite a chiudere insieme un momento importante della loro programmazione e delle loro ambizioni strategiche. Ora, ha spiegato, si sta consolidando anche una posizione unica a Molise e Puglia rispetto al sistema internazionale delle ZES. Abbiamo già avviato i primi incontri a partire da Dubai, ha aggiunto il governatore, con una sola immagine adriatica. Continueremo a migliorarla e renderla sempre più completa, interessante e competitiva. Toma ha in sostanza rimarcato che nel Molise tutto è pronto, anche se ha specificato in riferimento allo stato di attivazione della zona economica speciale. Non è cambiato molto rispetto a qualche mese fa. Voi per ragioni legate alla pandemia. Voi per la situazione di impasse che si è determinata, nonostante i reiterati solleciti inviati agli organismi competenti, ha sottolineato il Presidente della Regione, mancano ancora le nomine nell'ambito del Comitato di Indirizzo da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Una condizione che di fatto rende lo strumento non attivabile. In ogni caso ha voluto chiarire, specificando di essersi attivato e di aver inviato un ulteriore contributo in attesa di una riunione tematica della cabina di regia sul tema specifico della semplificazione. Semplificazione che, ha concluso Toma, ripetendo un concetto a suo avviso fondamentale, è l'elemento determinante per la ZES. E adesso i dati sul coronavirus con il bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale. Continua il trend positivo in Molise. Anche nelle ultime ore nessun nuovo contagiato su 178 tamponi processati. Restano 9 gli attualmente positivi e 413 i guariti. Bene, con questa grafica ci fermiamo, almeno per quanto riguarda la nostra informazione. Adesso uno sguardo ai quotidiani. Iniziamo dal web e dal giornale del molise.it. In apertura la politica Toma interviene sulle zone economiche speciali. Fondamentale, ha detto il governatore, intervenendo ad un convegno, è la semplificazione. Le altre notizie. Sisma dell'estate 2018 in Basso Molise. Il governo stanzia fondi per l'emergenza, ma manca il commissario. Adesso a Campobasso, il centro-destra boccia l'amministrazione gravina. In un anno, dicono, nulla è cambiato. Restiamo sempre nel capoluogo. Le case di edilizia residenziale pubblica potranno essere acquistate. Altra notizia. L'Adoc Molise scrive a poste italiane contestando il taglio degli orari dell'ufficio postale di Pietra Abbondante. E ci sta anche quest'altra iniziativa. La solidarietà con Divisa nasce ai Serni, alla sezione dell'Associazione Donatori della Polizia di Stato. La cronaca da Termoli. Scontro tra due auto. Traffico bloccato a difesa grande. Adesso futuro Molise. Continua il valzere delle poltrone. Pallante assessore al posto di Marone. Aida Romagnuolo rifiuta il sottosegretariato. Gli altri titoli. La cronaca. Scippa un'anziana in pieno centro a Montenero di Bisaccia. Denunciato un 25enne. La sindacale, con l'intervento della segretaria regionale della Will, Tecla Boccardo, senza un patto per lo sviluppo per il Molise sarà crisi irreversibile, ha detto. Si parla anche di trasporto locale. I sindacati annunciano uno sciopero di quattro ore per lunedì 27 luglio. Ci spostiamo adesso su primo piano. Marone fuori dall'esecutivo. La Lega ricorda al governatore gli accordi con Salvini e il Cavaliere. Iaricolla riferisce a primo piano di un recente confronto tra Toma, il leader del Carroccio, e Berlusconi. Se non mantiene i patti sarà il primo presidente di centrodestra a rompere l'alleanza a due mesi dalle regionali. Il commissario non esclude dunque conseguenze nazionali. Non siamo lo scendiletto di nessuno. Le altre notizie andiamo a vedere. Quelle a centropagina, eccola qui, con la foto di Palazzo San Giorgio. Il sindaco rifà il lucca all'ufficio in piena emergenza sanitaria. Opposizione all'attacco di Gravina. Spesa inopportuna, hanno detto. I cittadini fanno fatica ad arrivare a fine mese. E commercianti delusi, ingannati dalle promesse elettorali. In alto, sotto la testata, quella che viene definita da primo piano la pugnalata, negata la modifica alla tomba del Parà di Lisio. L'assessore 5 Stelle alla mamma d'ora, dice il comune di Campobasso, per suo figlio ha già fatto molto. Si parla anche di istruzione. Un milione e mezzo di euro dalla regione per i laboratori extracurriculari. Di Baggio, l'assessore dice, idea unica nel suo genere. Poi sulla questione del Censis c'è l'intervento da parte del rettore Luca Brunese. Dice che siamo penalizzati dal contesto. Nella rubrica Il Punto, oggi un articolo a firma di Vittorio Sanese, Alessandro è il valore del sacrificio. Si parla proprio del caporal maggiore scelto, Alessandro di Lisio, morto ucciso in Afghanistan. Andiamo alle notizie di spalla. Siamo a schiavi d'Abruzzo, rogo in cucina, un medico 75enne muore intossicato. Campobasso invece ha vicendamento ai vertici delle fiamme gialle. Favia cede il comando al colonnello Cefalo. Da Agnone le grandi manovre preelettorali, prove d'intesa tra Saia e Scarano. No da parte del PD. Per quanto riguarda la post-pandemia, la crisi non risparmia le scorte. Tariffe a picco in tutta Italia, in provincia di Senia invece lievitano, scrive Primo Piano. Poi a Termoli, semplice bellezza, c'è il videoclip che promuove e rilancia la città. E ancora per quanto riguarda il Covid, al via i test sireologici alle forze di polizia, sono stati avviati dall'azienda sanitaria regionale. Lo sport in basso, vasto girardi, primo tassello per mister Prosperi. Ecco il classe 2001, Ivan Ziroli. Nel campionato di eccellenza, altro supercolpo dell'Isernia. Ecco l'atteso numero 10, firma Petrone. Poi, infine, De Luca Bossa, una nuova regista per l'Europea 92. Ci spostiamo adesso sulla stampa nazionale. Qui a tenere banco è quello che è stato definito il dossier Autostrade. Ed ecco il titolo di apertura del Corriere. Autostrade, la svolta e i dubbi. Benetton promette il passo indietro, poi l'intesa. Nuovi soci e si tratta. L'opposizione però attacca. Atlantia vola in borsa dopo il tonfo del giorno precedente. Di Maio dice, ora giù i pedaggi e più sicurezza o scatterà la revoca. Conte lo definisce un capolavoro. A centropagina questa notizia, sequestra i 50 bambini per odio verso l'Italia. Questa è una frase riferita in aula durante il processo. Adesso è stato condannato a 24 anni, quello che è stato definito il dirottatore dello scuola bus. Adesso andiamo su Repubblica. Anche qui l'apertura è su Autostrade. Controllo a cassa depositi e prestiti. I Benetton dicono che è un esproprio. Operazione da 4 miliardi di euro. I privati avranno la minoranza. La famiglia, trattati peggio di una cameriera, hanno detto. Parla Bonafede. Festeggiano i cittadini, dice. Lo Stato è tornato a dettare le condizioni. Per il ministro De Micheli il governo si è rafforzato. Vedete questa foto a centropagina. Quel corpo alla deriva che ci offende tutti. Da due settimane il cadavere di un migrante vaga nel Mediterraneo. E questo, vedete, il corpo di un migrante è aggrappato al relitto dell'imbarcazione alla deriva nelle acque libiche. Da Repubblica adesso al fatto quotidiano. Autostrade libere, i Benetton in fuga. Vincitori e vinti. Conte, 5 Stelle e Gualtieri vincono. Battendo Renzi, De Micheli, Salvini e Grande Stampa. Aspi dunque sarà statale. I Benetton dall'88 all'11%. Poi via del tutto. Toninelli parla di un successo enorme. La questione autostrade. Allora, abbiamo detto che è sulle prime pagine di apertura di molti quotidiani. Non è così su Avvenire. Che titola in questa maniera è crisi di civiltà. Dunque, il presidente della CEI dice Senza figli non può esserci ripartenza. La politica realizzi le promesse. Parla Bassetti. Dice la vera emergenza, il calo delle nascite. Priorità, sostenere la famiglia. Un nuovo studio internazionale dice In 80 anni l'Italia dimezzerà gli abitanti. La questione autostrade finisce a centro pagina. In autostrade ritorna lo Stato. Chiudiamo anche il quotidiano della CEI. Passiamo al mattino di Napoli. Sud, la bomba, disoccupati. L'allarme dal rapporto Svimez. Dopo il Covid, a rischio, un posto di lavoro su 5. Inflazione a Napoli. Il caro prezzo è da record. Ogni famiglia spenderà 153 euro in più. Vedete, a centro pagina, la questione autostrade. Mentre di spalla, la campania degli scienziati sfida il virus. Ci sono 78 ricerche da parte del professor Ascerto e di altri esperti. Ora il manifesto strada statale titola con, vedete la foto, di un casello autostradale. Lo scontro su autostrade ha finalmente una soluzione. L'accordo notturno nella maggioranza prevede l'uscita di scena dei Benetton e la creazione di una public company. Lo Stato torna a gestire la rete. Esultano 5 Stelle, soddisfatti PD e Leo. Si parla anche della vittoria del Premier Conte. Ora il sole 24 ore con quest'altra notizia. In gorgo fiscale in 15 giorni ci sono 246 scadenze per il fisco. Il 93,5 sono versamenti. Dunque allarme dei commercialisti dicono serve un nuovo rinvio. In cinque mesi intanto entrate tributarie e contributive giù dell'8,4% anche a causa dell'emergenza Covid. Autogol di Conte è il titolo che ha predizione di oggi di Libero. Autostrade fa il danno, gli italiani pagano. Il governo statalizza. E poi aggiunge Libero, con i soldi di contribuenti e risparmiatori, compriamo a caro prezzo la società che fece crollare il ponte Morandi. I responsabili della tragedia ringraziano e incassano. E ancora si legge il record del debito pubblico, 2.500 miliardi. E il Premier rifiuta i fondi del MES, che è il meccanismo salva stati. Il tempo Conte fa ricco benetton. Il governo non revoca la concessione. Atlantia vola in borsa e fa guadagnare 805 milioni all'imprenditore. Su anche gli altri titoli del gruppo. Beffa intanto sul risarcimento. I 3,4 miliardi previsti non sono a carico della famiglia, scrive il tempo. Andiamo sull'altro quotidiano della capitale. Il messaggero, Autostrade, Conte piega il Movimento 5 Stelle. Lo Stato ricompra aspi dopo una notte di trattativa serrata. Resta il nodo del prezzo. Il Premier dice abbiamo vinto, ma i grillini sono scontenti. Dubbi intanto, PD e Renziani sono invece critici. A centro pagina, dal Messico al Circeo, una ragazza positiva ed è allarme movida. Parla il sindaco Schiboni, dice qui notti senza regole. I bar non rispettano i divieti di alcol ai minori. La stampa, oggi c'è un'intervista al Ministro De Micheli, nessun es proprio ai Benetton, ha detto dunque. E aggiunge, hanno scelto loro di uscire da Autostrade, salvati 10 mila posti. E poi aggiunge, ringrazio, il Movimento 5 Stelle. Dalla stampa, adesso alla verità. Conte fa un regalo ai Benetton. Fine della pantomima. Giuseppi perde di nuovo la faccia, scrive il quotidiano di Belpietro. Dopo aver annunciato la revoca in un'intervista al Fatto, il Premier fa dietro fronte e si accorda. Il titolo della holding di famiglia schizza in borsa più 26,6%. Quanto costerà allo Stato entrare in società con i Veneti, si chiede la verità. E quando accadrà? Ora parte la vera trattativa. Più in basso, il migrante in quarantena costa 4.800 euro. È la tariffa mensile calcolata sul nuovo bando per reperire una nave. Offerti oltre 4 milioni che si aggiungono all'1,2 del traghetto Zaza. Il sindacato di Polizia dice, siamo seduti su una polveriera. Adesso il secolo punto it, beffa di governo, accordo PD 5 Stelle su Autostrade. Entrerà lo Stato nel consiglio di amministrazione di Benetton. Resteranno azionisti. Più in basso, bomba Covid-19 a Napoli nel campo Rom di Scampia. Poi la politica, Piepoli conferma il trend. Centrodestra è avanti, quindi ci sono dei sondaggi. Adesso lo sport. Ieri è ancora turno in Serie A. Scudetto, Thriller, titolo alla Gazzetta. Juve, Sassuolo 3 a 3. E batticuore, dunque. Sarri un'altra frenata. Due soli punti in tre gare, nove reti subite. Avanti 2-0, rischia il K.O. a Reggio Emilia. Pareggia Alexandro. E a cinque giornate dal termine. Lazio a meno 8, Atalanta a meno 7. E intanto l'Inter, ci sono puntini di sospensione. A proposito, incredibile Conte. Oggi può essere secondo a meno 6. Alle 21.45, con Sanchez e Lautaro a Ferrara contro la spalla. In alto, Milan-Pioli non si ferma più. Parma rimontato, preso in Napoli. 1-1 a Bologna. La Roma rafforza il quinto posto. Bene, anche oggi con lo sport. Concludiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Alle 14.00, la seconda edizione del TG. Buona giornata.